Su proposta di Gal, Sila Sviluppo e Gal Croton è stato costituito il comitato promotore del distretto del cibo ionico silano, le vie della transumanza. Fanno parte del comitato, oltre ai Gal, il Parco Nazionale della Sila, il Crea, PB, i comuni di San Giovanni in Fiore e Pallagorio, oltre che le rappresentanze regionali e provinciali. Il comitato svolge la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività finalizzate all'individuazione e dal riconoscimento del distretto del cibo a valere sulla manifestazione di interesse pubblicata dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria. È prevista la costituzione di un gruppo di lavoro, coordinato dal direttore del Gal, Sila Sviluppo, composto da professionisti e da altri esperti nelle tematiche sopracitate, con il compito di progettazione, elaborazione e predisposizione, e messa a punto della documentazione per la presentazione dell'istanza di riconoscimento del distretto del cibo. Il territorio ionico silano, considerato, comprende 35 comuni della Sila e Presila, Crotonese e Cosentina, classificati come aree interne. La promozione di cibi in grado di soddisfare modelli sostenibili di produzione e distribuzione, l'attenzione al territorio, la qualità organolettica, le qualità della vita della comunità, sono tutte motivazioni principali che spingono verso la costituzione del distretto del cibo. La vision che si intende rilanciare è quella di un territorio che, al fine di contrastare il processo di marginalizzazione e declino demografico, persegue uno sviluppo fortemente connotato dall'ecosostenibilità e dove gli elementi di qualità della vita lo devono caratterizzare. Così come l'elevata qualità ambientale e la sua salubrità, la scelta di puntare su un sistema agroalimentare locale valorizza le connessioni tra cibo e salute, tipicità dei prodotti e dei paesaggi di produzione, consentendo nuove forme di interazione tra consumatori e produttori.